Un accordo giuridicamente vincolante che segna un passaggio importante nel progetto del distretto italico, ovvero la Hydrogen Valley, che la società australiana IGGE sta realizzando a Corfinio. Ieri infatti la società guidata da Stephen Gold ha firmato a Ginevra il contratto con la AXPO, colosso internazionale del trading energetico e nella commercializzazione di energia verde con sede in Svizzera. Con l'ingresso degli Elvetici il progetto di Corfinio pianta salde e radici sul territorio abruzzese e opziona una fetta di mercato destinata a crescere nel tempo, quella c'è dell'uso dell'idrogeno per fini industriali e di mobilità sostenibile. La fabbrica, che nascerà sulle ceneri dell'ex stabilimento Coca-Cola di Corfinio, per il quale in questi giorni e in fase di definizione l'acquisto del capannone, sarà in grado di produrre oltre 12 tonnellate di idrogeno al giorno, alimentata da un impianto fotovoltaico da 45 MW per un risparmio di 18 milioni di litri di carburante diesel e una riduzione di emissioni di CO2 di 67.000 tonnellate all'anno. Uno dei più grandi impianti di produzione di idrogeno verde in Italia e in Europa, insomma, che ha l'ambizione di candidarsi ad una delle stazioni di rifornimento lungo l'asse della rete di trasporto transeuropea, che prevede entro il 2030 il posizionamento di una stazione di rifornimento ogni 200 chilometri. Quello del trasporto di idrogeno, d'altronde, è un settore molto sviluppato in Australia e Giappone e su cui la IG sta lavorando anche con i produttori di camion e tirri in Italia. Per iniziare, però, le due società hanno già una commessa importante appaltata, quella cioè dello stabilimento Etex di Corfinio, che produce cartongesso e che ha già sottoscritto un accordo per compiere la sua transazione energetica con l'idrogeno, sfruttando, tra l'altro, i vapori di lavorazione prodotti per l'elettrolisi. L'impianto fornirà anche energia elettrica rinnovabile alla rete locale entro la seconda metà del 2025, un investimento da oltre 200 milioni di euro e una ricaduta occupazionale stimata sulle 100 unità tra assunzioni dirette e indotto.